Allora Simo, ti piace sto aereo? Sì, Presidente, è molto bello, ma è sicuro che devo guidarlo io? E certo Simo, sei allenatore e devi guidare la squadra, e poi qui ti puoi l'aereo e non rompi i coglioni, se no che te paga a fa'? Anzi, ha promesso di pagare... A tutti i calciatori della Lazio, vi ricordo di raccogliere i soldi per il biglietto dell'aereo, sono 150 euro a testa! Ma come, Presidente, dobbiamo pagarci noi il biglietto? E certo, se no come c'è rietto dall'acquisto di sto aereo, costa sto coso... Date pure i soldi alla Hostess Luis Alberto! Luis Alberto, ma come ti hanno agonciato? E' la punizione per essere andato contro il Presidente! Te lamentavi che non venivi pagato? Bene, ora sei pagato per fare la Hostess! 5 euro all'ora, portami un caffè e un cornetto! Simo, vuoi qualcosa? Sì, un bicchiere d'acqua, grazie! Bicchiere d'acqua sono 5 euro, forza, tirati fuori! Presidente, scusi, non sono molto pratico, ma com'è che si frena qui? Ma sì, dai, sarà come la macchina! Schiaccia qualcosa? Vabbè, provo con questo pulsante qui! Porca puttana, era il pulsante dell'espulsione automatica! Ho buttato fuori Patrick! Meglio così, Simo, non stipendi nemmeno da pagare! Spiace per Patrick, spiace per il ragasso!